ciao a tutti gradualmente l'attività subacqua sta ripartendo negli ultimi giorni qui in vento molti subacquei stanno tornando in acqua e spero che a breve la cosa si estenda in tutte le altre regioni italiane e che tutti i centri di immersione possono presto tornare a lavorare in questo breve video vi spiego quali saranno le nostre procedure per la prossima riapertura del 18 maggio inoltre proprio oggi abbiamo ricevuto dalla regione veneto le nuove linee guida per la riapertura dell'attività economica abbiamo messo in sicurezza la nostra attività igienizzando la struttura e sanificando tutta l'attrezzatura esposta all'ingresso del reparto nautico e subacqueo troverai guanti e dispenser con igienizzatore per quanto riguarda la vendita noleggio revisioni e ricarica bombole seguiamo il protocollo per lo svolgimento delle attività subacque professionali nel rispetto delle misure anticontagio redato da simsi assosub ed an europe in particolare ogni attrezzatura revisionata e noleggiata viene sottoposta ad una curata pulizia e sigillata in una confezione ermetica e poi consegnata al cliente abbiamo inoltre suddiviso l'attrezzatura in arrivo dal noleggio in apposite zone in attesa di sanificazione tutte le rubinetterie delle bombole che rientrano dal noleggio vengono sanificate prima di una nuova ricarica abbiamo scelto per la disinfezione due diversi prodotti appositamente realizzati per l'attrezzatura subacqueo il primo contiene perossido di idrogeno al 23 per cento ed è indicato per maschere boccagli ed erogatori il secondo invece contiene il 4.5 per cento di cloruro di ammonio ideale per disinfettare mute guanti e tutto il neoprene per quanto riguarda le ricariche invece abbiamo acquistato filtri preconfezionati direttamente dal produttore in modo tale da dover maneggiare assolutamente niente per quanto riguarda invece la vendita di nuova attrezzatura abbiamo acquistato il sunny air che permette di sanificare i camerini al termine di ogni prova ed infine abbiamo creato alcune zone dove andremo a depositare i prodotti provati dai clienti in attesa di futura sanificazione siamo disponibili a fissare un appuntamento in modo tale da evitare assembramenti ed inutili attese quindi buon fine settimana e se durante il weekend andrà in acqua ti invitiamo a condividere la tua immersione con hashtag dive up sui tuoi profili buona immersione grazie a tutti